La fabbrica del vapore è uno spazio pubblico unico, 30.000 metri quadri aperti alla città e raggiungibili da due nuove fermate della metropolitana. Da oggi fino al 15 aprile puoi partecipare al bando Spazi al talento. 15 nuovi spazi dedicati ai progetti nell'ambito delle arti performative, visive, audiovisive e multimediali e della diffusione della cultura per un totale di oltre 5.000 metri quadri. Un bando per trasformare la fabbrica del vapore nel nuovo punto di riferimento per la produzione e l'aggregazione culturale giovanile a Milano. Per la prima volta vengono messi a bando anche due spazi per bar e ristorante.